Questa è una cosa che è importante da capire, che non saprai mai dove arriverai. Tu avrai dentro solamente la voglia di fare meglio, di fare di più. Il come lo scoprirai durante il percorso. Ed è un po' la metafora della vita. Noi non sapremo mai dove moriremo, cosa avremmo fatto alla fine della vita. Ma se vuoi una vita felice, il segreto è andare sempre avanti, come dicono i tedeschi. Mai indietro, sempre avanti. Mai indietro, sempre avanti. Andare a cumulare nuove skills è la chiave del successo, che io darei anche come consiglio a tutti i genitori. Il figlio va a scuola la mattina, la sera mandalo un mese da un falegname, un mese dal fabbro. Il pomeriggio del mese successivo lo mandi magari a aiutare un carpentiere. L'importante nella vita è sviluppare skills. Sporcarsi le mani con tante cose differenti. Ogni volta che tu fai una cosa diversa, impari una cosa diversa, stai aggiungendo un puntino su quel foglio bianco. E quando hai tanti puntini puoi disegnare quello che vuoi. Amen. Grazie. Grazie.